buongiorno a tutti e ben ritrovati nel mio canale spalancamente oggi avventura piratesca con l'olandese volante di richard wagner william richard wagner nacque alizia il 22 maggio 1813 e morì a venezia il 13 febbraio 1883 è stato un compositore poeta librettista filosofo regista teatrale direttore d'orchestra e saggista tedesco date importanti del compositore 1828 wagner tornò alizia dove completò le scuole secondarie all'età di 16 anni assistette a una rappresentazione del figlio di beethoven e da lì comincia a maturare il desiderio di diventare compositore infatti nel 1833 cominciò a comporre di etienne le fate nel 1837 divenne direttore d'orchestra conisberg 1839 compose l'olandese volante e tra il 1839 e il 1842 visse in condizioni di povertà a parigi però compose la tetralogia l'anello dei nibelunghi composta da l'oro del reno la valchiria sigrifrido e il crepuscolo degli dei che noi vedremo su youtube spalancamente a maggio divenne nel frattempo amico di franz l'inst futuro musico teatrale e hans von bulow futuro di attore d'orchestra la notte prima di morire wagner suonò per l'ultima volta al pianoforte il lamento delle ondine dell'oro del reno la tomba di wagner si trova a beirut nel giardino della sua villa daland è un marinaio norvegese senta figlia di daland eric è un cacciatore innamorato di senta meri nutrice di senta l'olandese fantasma maledetto in cerca di redenzione l'opera è divisa in tre atti atto 1 daland torna a casa con la propria nave e si ritrova ad affrontare una tempesta che lo costringe a trovare rifugio mentre dorme con i suoi marinai giunge all'improvviso un vascello fantasma e scende uno strano personaggio vestito di nero quest'ultimo si lamenta di aver maledetto dio e come punizione è costretto a non morire e navigare senza meta un angelo gli è venuto in soccorso dicendogli la sua redenzione ogni sette anni una tempesta lo porterà a riva e solo se troverà una moglie che gli sarà pedele per tutta la vita allora potrà riposare in pace l'olandese incontra daland e il fantasma gli offre i suoi tesori in cambio gli chiede la mano di sua figlia senta daland acconsente e partono per il ritorno a casa atto 2 intanto in casa di daland alcune ragazze stanno affilando la lana e senta guarda in maniera dolce il quadro dell'olandese volante e che ha intenzione di salvarlo eric un cacciatore innamorato di senta la vuole convincere che l'olandese volante è cattivo ma lei non gli crede eric se ne va sconsolato una volta giunti a casa l'olandese senta si dichiara un amore eterno e daland insieme ai marinai prepara una festa di fidanzamento atto 3 durante la festa daland invita gli uomini dell'olandese volante ma essi assumono le forme spettrali e gli uomini scappano impauriti eric continua a ribadire il suo amore per senta ma lei non gli interessa l'olandese volante pensa che senta gli sia infedele quando senta vede l'olandese volante andarsene disperata si tuffa nel mare e muore annegata con questo gesto salva l'olandese volante che sale in paradiso con lei è un'opera di richard wagner nota anche con il titolo il vascello fantasma la storia è ripresa dalla leggenda polcroristica l'olandese volante che narra di un capitano a navigare fino al giorno del giudizio wagner riprese la prima al coniglicest of theater di destra il 2 gennaio 1843 con william scroder de brighton mi raccomando seguitemi anche su instagram dove ogni volta comunicherò l'ora del video da vedere su youtube attivate la campanella per le notifiche e soprattutto mettete like ad ogni video amici non mi resta che augurarvi buon divertimento buon ascolto a presto a presto